Grazie, grazie, ma l'hai preparato l'europea? Che roba? Le date e i appuntamenti? Ah, non mi sono ricordato... No, scorda, digli che domani c'è il concerto di San Martino C'è il concerto di San Martino con l'assegnazione del San Martino Quello lo sa anche lui Lo sanno tutti, però vabbè, digli questa intanto Così è contento E non mi sono ricordato, la settimana a digli, la settimana a cose Lo prepariamo Va bene Vai con... Voi, dai Il vostro aiuto è vero Mamma mia Le so anche io Voi mi dovete fare l'amore di redazione Vuoi dire che stamattina c'è stato un incendio? Ma no Quella va bene le dici tu No, chiaramente...